Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di recap sui mercati di oggi, mercoledì 24 giugno, la faremo sia su DAX che su Fuzzimib. Allora, quello che già mi aspettavo fosse partito qui, perché c'era già stato un buon movimento oltretutto ad andare in violazione di determinati livelli di swing, sta finalmente capitando qua. Ci siamo mossi in maniera fantastica, ovvero da qui probabilmente è finalmente partito il team verso e non soltanto quello, non in termini di tempo per ora, ma nella realtà dei fatti, in termini di volumi, come potete vedere, e abbiamo fatto una fantastica giornata con una finta a rialzo, un finto gap up, già fatto ieri, che poi è stato un buon e poi si è ritorto contro chi provava ad andare verso i massimi e sperava che queste due candele verdi portassero alla partenza di un T-3 come magari questo o altri. Che cosa è successo quindi? Evitando di andare subito a farci male, partenza scheggia ribasso, siamo arrivati nei pressi di questo livello e abbiamo iniziato a far partire l'ottavo T-3. A quel punto, per sicurezza, avendo fissato già qui un buon margine di ritracciamento, ho segnalato che era possibile andare a fare uno short sotto questo swing inverso 12.252. Perché non l'abbiamo preso da più alto? Perché nella realtà dei fatti, anche se questo poteva essere tranquillamente l'ottavo T-3, avevamo un margine di errore veramente molto piccolo da questo minimo a quello successivo che abbiamo avuto, ovvero 12.209 a 12.214. Qui, eventualmente, raramente, molto raramente, ho visto chiudersi i settimanali senza un settimanale ribassista. Per cui, per evitare queste eventualità, abbiamo dovuto aspettare una ripartenza e quando abbiamo avuto la violazione di questo minimo, qua, segnalato, siamo entrati short. Prima candela scesa ha continuato a scendere veramente molto bene, questa delle 15.45. Lo short è stato programmato con due ore d'anticipo. Candela verde fastidiosa. Poi candela, prima rossa, poi quasi verde, poi di nuovo non. E poi abbiamo iniziato ad andare giù. Il target minimo che avevo dato era quello di andare in violazione dei 12.204, ma nella realtà, dei fatti, si poteva anche andare a 12.172. Se avessimo bucato i 12.164, avremmo potuto proseguire il ribasso. Cosa è successo? Siamo andati oltre il livello 12.164, bucato, e abbiamo continuato a scendere. Tenete conto che il tempo fondamentale nella ciclica voluta, per cui superata già la ventunesima e la ventiduesima candela, era più rischioso rimanere short che alto, perché può partire eventualmente qualche cosa di nuovo, e perché oltretutto avevamo già la condizione minima sufficiente per la chiusura dell'ottavo t-3, ovvero che fosse ribassista e che si fosse andati sotto il minimo a 12.214. Chi è rimasto in trailing si è portato a casa tanti soldi, per il fatto che, facendo una short a 12.251, ha chiuso eventualmente la giornata, portandosi a casa 130 tic di DAX, o qualcosa di più se non è andato fino alla chiusura. Poi che cosa abbiamo fatto? Per sicurezza, se non eravamo entrati con anche chip per l'overnight, abbiamo chiuso, vedremo se ci sarà eventualmente un piccolo rimbalzo, ma in realtà il nostro ottavo t-3 ha tutto il tempo per continuare a scendere, quindi domani potrà fare quello che vuole, perché è arrivato alla ventiquattresima barra, che anche per quanto riguarda il fuzzinib significa minimo normale regolare di 6 ore di durata di un ciclo dopo il quale ci può essere un sussutto verso l'alto. E tenete presente che noi siamo partiti da qua. L'apertura è stata a 12.459, abbiamo perso su DAX ben 339 punti, sono tanti. Se eventualmente domani non farà una risalita particolare, ricordiamoci che siamo in durata media di durata di un T settimanale e che soprattutto a noi interessa capire che cosa sta partendo qua, perché non sarà probabilmente solo un nuovo T inverso, ma qualche cosina di più. Ok? Questo per quanto riguarda DAX. Per quanto riguarda il fuzzinib, la situazione è molto simile, anche se la centratura è leggermente differente, per cui qui siamo arrivati già a 40 barre, anche in questo caso con un massimo di 44 barre di durata che può avere un T-3, sarebbe un po' un azzardo rimanere in overnight, a meno che non si abbia una posizione in multi... con money management, ovvero più posizioni a livelli differenti. Qui, peraltro, non ho scelto come partenza dell'ottavo T-3 questa candela, perché siamo andati a 46 barre, per cui il settimo ha chiuso qua, l'ottavo ha provato a spingere, bella finta, molto più bella finta rispetto ancora al DAX, e poi abbiamo iniziato a piovere verso il basso. Qui avrei dato lo short dai 19.492, in violazione avremmo avuto solo candele rosse, e saremmo scesi di parecchio, perché da questo livello 492 a 205 avremmo fatto 290 tick circa. E qui abbiamo un gap up ancora aperto. e siamo andati sotto il livello di ritracciamento del 38% di Fibonacci su questo ciclo. Per cui, a ognuno suo, fate attenzione perché stiamo per andare in Death Cross, e vi passo all'ultimo grafico. L'ultimo grafico ci fa vedere questa magnifica candela, ovvero dopo un T inverso, che è arrivato alla sua durata massima di 11 giorni, un settimanale, un ciclo settimanale inverso, da massimo a massimo, che sviluppa verso il basso il suo massimo effettivo, che è un minimo per l'indice, beh, direi che il secondo T inverso sta iniziando a spingere bene verso verso il basso. Per cui, già una violazione di questo swing di una candela giornaliera ci dice che se avremo conferme domani si può continuare ad andare giù, anche perché l'indice, peraltro, è arrivato soltanto a 8 giorni, che è una durata già media, però, qui, come vedete, continuiamo a vedere il nostro bel Gap Up aperto, che potrebbe essere chiuso domani. Questo è quanto. Se l'analisi vi è piaciuta, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanella per essere sempre avvisati quando uscirà un nuovo video, eventualmente valutate l'ingresso in uno dei gruppi trader che coordino e mettete un bel like. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Per noi, anche quest'oggi, gran bello short, gran bella giornata. Arrivederci.